che non si comprende se stessi o per un'opposizione esterna. Si arriva così a un conflitto e di conseguenza si soffre. La guida del maestro Letterius riesce a illuminare il percorso esatto da seguire. Se non vuoi soffrire più, se desideri superare i tuoi problemi e se sei alla ricerca del giusto sentiero, 3 3 5 6 5 9 2 9 0 8 Questo è il numero che puoi formulare per percorrere il cammino verso la gioia, verso l'amore. Letterius, sensitivo, operatore dell'occulto, parapsicologo, specialista dell'alta magia, pranoterapeuta. Riceve nelle principali città d'Italia. Si sposta anche all'estero, visto le grandi richieste. Approfitta. In questo momento, mentre sta andando in onda il filmato, è proprio vicino a te, nella tua città. 3 3 5 6 5 9 2 9 0 8 Se le stelle risplendono, significa che qualcuno ne ha bisogno. Significa che è necessario che almeno una sera una stella brilli sopra il tetto. La stella è la grande forza della magia. Ti aiuta a ritrovare l'amore, il successo, la fortuna. Solo con il maestro Letterius, specialista di alta magia, potrai risolvere tutti i tuoi problemi. Non è vero che bisogna rassegnarsi impotenti ai colpi della sorte. Bisogna e si può lottare per costruire il proprio destino, con ferma volontà e con i giusti mezzi. I mezzi grandiosi che solo Letterius, parapsicologo, sensitivo, pranoterapeuta, possiede. Fidati. Chiama per ricominciare a vivere. Letterius è maestro, sensitivo, specialista dell'alta magia, operatore dell'occulto, pranoterapeuta. È tra pochi al mondo in possesso di autentici manoscritti rimasti per effettuare purificazioni in ambienti e persone. Affidati con fiducia. Puoi contattarlo e parlare direttamente con lui. 335-6592-908 Signora Trenzani, cosa l'ha spinta a rivolgersi al mago Letterius? La disperazione, perché avevo la mia azienda che non funzionava. E un giorno, leggendo su un giornale la pubblicità che faceva il mago Letterius, ho voluto provare anch'io. Ho telefonato, gentilmente mi ha fissato un appuntamento e ci siamo poi incontrati. Ho ritrovato di fronte una persona all'altezza.